Partiti i cavalli dell'ultima corsa, incertezza per Blaugrana e anche per Sotogrande che però si riprende in avvantaggio ci va Lucy Bell insediata all'esterno da Otre Hart della partita anche Rock Royalty. Blaugrana che si ricongiunge bene ed è quarto sotto, poi a Belli Belli, Bossa Nova e appunto Sotogrande con il gruppo ben raccolto. Lucy Bell a dettare l'andatura nei confronti di Otre Hart in terza posizione, c'è Bossa Nova all'esterno di tutti insieme a Rock Royalty, il terzetto è completato da Blaugrana che invece serra sotto, poi Belli Belli e ancora Bossa Nova. Siamo in dirittura di arrivo con Lucy Bell in avvantaggio, subito insediato all'esterno da Otre Hart, Rock Royalty che ancora immobile, poi Sotogrande ci prova Blaugrana all'esterno di tutti, anche Bossa Nova ed a Belli Belli siamo a 300 dal palo con Otre Hart che è passata in avvantaggio, adesso deve allungare ulteriormente, ancora immobile Rock Royalty che deve correre in quel modo, Sotogrande che all'esterno di tutti, Blaugrana che ci prova ma qui Otre Hart se ne sta andando per proprio conto. L'ultima minaccia è rappresentata da Rock Royalty, Otre Hart a 100 dal palo è davanti nei confronti di Rock Royalty e Sotogrande, vince Otre Hart che la chiude così al secondo, poi Rock Royalty e al terzo Sotogrande. Vince dunque numero 5 dello schieramento Otre Hart, Manuel Porco in sella per il training di Paola Maria Gaetano, i colori sono quelli della Chimax, la quota al totalizzatore era di 4,57, si chiude così il pomeriggio delle capannelle con Otre Hart nei confronti di Rock Royalty e per il terzo Sotogrande. E' tutto da Capanelle, l'appuntamento alla prossima giornata di corse martedì 14 novembre. Grazie. 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 Grazie.